Lorenzo Montanari, Unione Sindacale di Base, perché siete in piazza? Qual è la piattaforma? Oggi è una giornata di sciopero generale in tutto il paese, stiamo dicendo e portando avanti nelle piazze una questione fondamentale. Lo slogan abbassare le armi, alzare i salari e i diritti è una questione centrale e che invece questo governo, Meloni, esattamente come quello Draghi e come quelli precedenti, vogliono mettere in discussione. Gli aumenti salariali, si continua a non parlare, di una legge sul salario minimo viene continuamente eliminata e adesso anche con l'attacco al reddito di cittadinanza vogliono continuare ad attaccare le classi popolari e le famiglie in difficoltà a causa del caro vita. L'unica cosa che invece concordano tutte le forze politiche e il governo è quella di continuare a finanziare le spese militari e gli armamenti. Oggi, in questa giornata di sciopero generale, portiamo avanti una piattaforma che è molto larga e condivisa da tutto l'arco del sindacalismo di base conflittuale, a partire da una legge per omicidio sul lavoro, a partire da una legge per il salario minimo, a partire dagli aumenti salariali che vadano realmente a garantire una vita dignitosa perché quello che aumenta sono solamente le spese, le bollette, gli extra profitti che si fanno nei molti utility, ma mai i salari. Grazie!